L'inaugurazione del nuovo front office degli uffici comunali che si occupano di informare i cittadini sullo stato di avanzamento delle procedure di riedificazione. Nel breve periodo, infatti, le priorità dovranno essere quelle relative alla creazione di una nuova struttura di supporto che si occupi del coordinamento dei vari uffici già in piena attività e, sul fronte economico, garantire l'erogazione dei fondi già stanziati, individuando poi ulteriori linee di credito. Per ciò che riguarda un arco di tempo più ampio, invece, il fronte si allarga anche ai tavoli istituzionali europei, soprattutto in considerazione dei problemi di ambito fiscale. Primo fra tutti, quello riguardante la questione della restituzione delle tasse non versate causa sisma. Nei prossimi giorni verrà varata una nuova struttura che è in continuità con quella che c'era ma che assumerà una veste organizzativa, giuridica, amministrativa nuova, una struttura tecnica di missione per l'Aquila che corrisponde anche all'intese che abbiamo avuto con le autorità locali a partire dal sindaco. In secondo luogo, a brevissimo, faremo l'assegnazione delle risorse, quelle già stanziate con la legge di stabilità per poter proseguire con l'esame delle pratiche e la concessione dei contributi e stiamo lavorando per completare la risorsa finanziaria necessaria per andare avanti per il 2014.